gmail gmail ok devo configurare un account google sul computer nuovo che sto preparando a una signora signora che mi aveva anche chiesto un consiglio per un'applicazione che le permettesse di avere uno scadenziario tipo agenda in sostanza magari che si sincronizzasse in automatico con lo smartphone appc scrive l'appuntamento e smartphone eventualmente viene fuori la notifica o anche ovviamente a computer tra me beh ho pensato ma ovviamente può usare il servizio gratuito di google google calendar non lo conosceva e da lì un po di spiegazione e adesso glielo stavo preparando però mi sono anche interrogato su quanti non conoscono tutta la potenza di un account google ovvero nel momento in cui ci registriamo su google per fare la gmail ad esempio quanti servizi e prodotti vengono rilasciati da google tramite per l'appunto una registrazione gratuita e la creazione di un account con google sono andato su wikipedia ero incuriosito per vedere quanti servizi fa e effettivamente i servizi lista dei servizi che troviamo come lista su sito di wikipedia inerente a google sono tantissimi alcuni non li conoscevo altri li conosco e tantissimi ne uso al che mi chiedo anche ma tu sai di avere una gmail ma non sai quanti servizi hai accesso di google con la tua gmail e forse forse potresti approfondirlo come argomento perché alcuni servizi sono fenomenali partiamo dalla prima gmail servizio mail tra i migliori in assoluto poi c'è google chrome che utilizziamo regolarmente per navigare in internet ovviamente c'è anche firefox molto buono explorer ed age di cui tralasciamo i commenti anche in chrome se tu sei registrato nell'account google e hai la tua gmail puoi sfruttare un servizio che chrome prevede in alto a destra te lo farò vedere nel video c'è la possibilità di fare l'accesso a chrome l'accesso a chrome altro non è che con le tue credenziali di gmail puoi salvare in in cloud tutti i preferiti tutta la cronologia e questa poi dialoga coi vari dispositivi tipo lo smartphone il tablet e il computer portatile per avere appunto la sincronia dei dati comodissimo lo uso tantissimo nonché anche fare più profili utenti allo stesso nello stesso chrome tommaso con la sua gmail la moglie con la sua gmail nello stesso chrome lei ha i suoi preferiti io i miei preferiti lei ha la sua cronologia io la mia cronologia e così via tra altri gli altri servizi più famosi potrei dire youtube youtube bellissimo se sei registrato con l'account google ti iscrivi ai canali puoi lasciare i commenti e così via poi ce ne sono altri meno conosciuti che si integrano nel browser e con l'ultima versione di gmail ti farò vedere tra poco il video puoi sfruttarli ancor di più che sono il calendario di google e google keep simpaticissimo programma per prendere appunti ti faccio vedere due tre cosini tra cui anche la lista di google e poi mi dici cosa ne pensi se non è se se li conoscevi già o se effettivamente ti ho dato una dritta allora la lista dei lista servizi google wiki lista dei servizi e degli strumenti google allora qua trovi su wikipedia tutta la lista dei vari software servizi prodotti che google fa e ha fatto questa era la parentesi per farti vedere il sito e la lista ma andiamo al dunque allora in alto a destra come ti avevo accennato prima potrai fare l'accesso a google nel mio caso vedi già il mio 9 e la mail che uso per le registrazioni con la quale ho fatto l'accesso a questo google chrome nel momento in cui tu utilizzerai perché hai fatto l'accesso a google chrome con la tua gmail potrai sincronizzare tutti i preferiti con i vari dispositivi nei quali avrà inserito le stesse credenziali di gmail questa era la prima cosa come parentesi a livello di chrome molto utile ma andiamo adesso a vedere la gmail gmail questa è la veste grafica nuova ti ricordo che non è uscita da molto tempo pertanto tu potresti ancora avere la versione vecchia di gmail per passare alla nuova versione devi premere sulla rotellina posta in alto a destra e nel tuo caso vedrai la scritta passa alla nuova versione di gmail fallo tranquillamente perché se non ti piace poi comunque tornare alla versione classica o chiamiamola vecchia di gmail dunque allora qui sulla destra nella versione nuova di gmail abbiamo l'iconcina che ci porta al calendario l'iconcina che ci porta a google keep proviamo prima il calendario che se non lo conosci è bene sfruttarlo perché è molto comodo proprio per la sincronia tra appuntamenti e quant'altro smartphone computer e altri dispositivi nel quale hai lo stesso account se la premi una singola volta avrai la lista degli appuntamenti che puoi anche visualizzare per il giorno successivo e così via però ecco vedi lo apri anche tutto il mese e sfogli i mesi molto utile è aprire totalmente il calendario a tutta pagina diamo il consenti per le notifiche così mi vengono fuori le notifiche se voglio aggiungere un appuntamento in chrome in google calendario è facilissimo pigiamo nel punto in cui dobbiamo fare un evento evento di prova chiudo questa schermatina bene altre opzioni e qui posso regolare se è un evento che si applica tutto il giorno se si ripete ogni x tempo ogni giorno ogni settimana di mercoledì una volta all'anno dovrebbe esserci ogni ogni anno il 9 maggio ad esempio per una ricorrenza io mi sono scritto l'anniversario di matrimonio così non me lo dimentico più ovviamente non lo diciamo alla moglie e qui puoi anche dare altri fattori descrizione testo allegare un file che so pagare bolletta scansioni la bolletta e l'alleghi già come documento all'interno dell'evento del calendario aspetta a nulla facciamo un salva che comunque ho fatto un evento di prova vediamo invece tornando un passo indietro nella nostra gmail google keep google keep che puoi installarla anche come app nel tuo smartphone ti permette di scrivere delle piccole note che non sono eventualmente gli appuntamenti per il quale ti consiglio di usare il calendario ma che so la lista della spesa legna per camino fine ora questa nota chiudo tutto riapro chrome scrivo in google anche qua in alto cap keep di google ci accedo non mi chiede nessuna credenziale perché ho già fatto l'accesso a chrome perciò mi riconosce in automatico all'interno dei servizi chrome e vedi che ho questa nota grande che era quella nota piccola che avevo scritto nel calendario questa stessa nota se io google keep nel cellulare la vedrò nel cellulare posso correggerla modificarla eliminarla anche dal cellulare comodissimo io mi sono scritto un sacco di appunti un'idea che ti viene in mente vuoi scrivertela al volo la scrivi qua così poi nel pc la puoi ripescare anche questa puoi metterla in primo piano correggere o convertire un po l'estetica del post it chiamiamolo così e ovviamente anche scriverci intensamente dentro puoi scrivere tantissimo molto utile per scopi personali studio lavoro e altro torna sempre utile come funzione permette anche di fare immagini note dal cellulare anche note vocali oppure se hai un tablet con la penna anche disegnare e poi troveremo il nostro bel disegno salvato come un appunto provalo perché merita un altro dei servizi google che ti accenno velocemente perché sono veramente tanti e fare un piccolo video non basta e non merita per tutti questi è google drive google drive è dopo dropbox secondo me uno dei migliori servizi di cloud per i file personali io ad esempio la uso molto per condividere con i clienti che hanno preso il programma di video montaggio le video guide e altre informazioni pesanti da poter mandare via mail in quanto in google drive tu hai 15 giga di spazio libero tuo personale che puoi facendo su un qualsiasi prodotto all'interno di google drive tasto destro condividi e lo puoi condividere via mail con un'altra persona che non riceverà il file ma avrà l'accesso a quel singolo documento canzone film quello che hai condiviso direttamente dal suo computer via internet molto comodo l'ultima cosa che voglio farti vedere come servizi google eccezionale sono i documenti google ovvero documenti fogli e presentazioni chiamalo se vuoi word excel e powerpoint di questo devo fare un video particolare su presentazioni perché più di qualcuno viene a chiedermi magari per il figlio che ha cominciato la scuola un programma per fare presentazioni che sia un'alternativa a libreoffice che magari non è piaciuto molto ti ricordo che all'interno di libreoffice che è gratuito c'è impress che permette di fare delle presentazioni più che carine eccolo qua ti permette di fare i modelli come powerpoint eccetera però ho provato personalmente presentazioni che non l'avevo mai approfondito e l'ho trovato molto molto valido per realizzare piccole presentazioni piccole relativamente ed esportarle in formato pptx che sarebbe eventualmente compatibile con powerpoint in formato odp che è compatibile con libreoffice in un documento pdf perciò ti salva ogni singola slide come un foglio pdf in un unico file pdf come testo txt lasciamo perdere e se ti serve invece una singola schermata ti salva in formato fotografia jpeg perciò devi farlo per ogni singola slide questo programmino che è intuitivo e facilissimo da utilizzare se facciamo un esempio ho fatto la presentazione a computer di casa tutto quanto io posso anche inviare questa presentazione direttamente via mail al professore oppure pescarla nel mio account google drive ti faccio vedere che in google drive avevo salvato ho fatto anche una prova di copia la presentazione e posso ripescarla da qualsiasi computer nel momento in cui faccio l'accesso al mio google drive chiudo qua il filmato se no diventa troppo lungo ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti